Come ha scritto questo libro? Su cui siano tante aspettative e che ha tanti significati oltre a quello di sfamare. Pensiamo a quanto valori affettivi di tradizioni ci sono dietro al cibo. Quindi il libro è uno strumento per dare a tutti quelli che sono intorno al bambino degli strumenti su come comportarsi. Una delle prime cose è questa perché come pediatra la prima preoccupazione che stanno nel genitore è quella se il loro figlio mangia abbastanza o cresce abbastanza. Cioè sulla quantità e bisogna iniziare a pensare che è importante sia quanto mangia il bambino ma anche la qualità, quello che mangia e soprattutto come mangia. Quindi il bambino deve mangiare quantità adeguate e queste le regola lui perché i bambini si sanno autoregolare fin dalla nascita. La qualità dipende da noi e come si mangia dipende anche da noi. Un esempio solo. I bambini imparano da quello che vedono, non da quello che gli viene detto. Quindi il bambino mangerà bene se noi adulti mangeremo bene, se abbiamo degli stili di alimentazione corretti, come per esempio mangiando seduti a tavola senza la televisione, masticando in modo adeguato. Quindi i bambini sono delle specie di videoregistratori, ci guardano, quello che noi facciamo è molto probabile che faranno. Quindi il primo compito del pediatra è quello di spiegare ai genitori queste cose, di non preoccuparsi tanto se mangia, quanto mangia, eccetera, ma di lasciare la responsabilità a lui di scegliere quanto mangiare e di cercare di dare cibi di qualità. Il libro è suddiviso in vari capitoli e si inizia con la donna che aspetta un bambino, quindi prima della nascita, perché l'alimentazione interviene già prima e vengono forniti alla donna prima della nascita già vari consigli su cosa mangiare e cosa non mangiare, cosa non bere, per esempio no al vino e alcuni consigli generali a partire dall'alimentazione alla vaccinazione e alla prevenzione degli incidenti. Poi si parla dell'alimentazione del bambino, sia l'alimentazione naturale al seno, sia l'alimentazione artificiale per quelle povere mamme che non riescono ad allattare per vari problemi. Tutte le donne vorrebbero allattare, in alcuni casi non ci si riesce. per arrivare allo svezzamento e poi si parla dell'alimentazione del bambino fino all'età adulta, comprendendo l'alimentazione a scuola, l'alimentazione durante l'attività fisica, durante lo sport, l'alimentazione vegetariana e comprende alcuni capitoli molto importanti che sono l'inquinamento che è una delle piaghe peggiori a cui i nostri bambini sono sottoposti e anche qualche nota di stare attenti alla pubblicità che induce a dei consumi, a volte non corretti, per non dire assolutamente arratti. Il capitolo completo parla dei rischi legati al cibo. Il rischio principale e che fa paura a noi pediatri e ai genitori e a tutti è quello del soffocamento da corpo estraneo. Soffocamento da corpo estraneo vuol dire che un qualcosa, in genere il cibo, mentre il bambino mangia, invece di andare nell'apparato digestivo nello stomaco, va nelle vie aeree e se è di dimensioni grandi può ostruire e causare il soffocamento. Sono decine di morti all'anno di bambini sani che soffocano, in genere al 90% mentre mangiano. In altri casi sono dei giochi, dei giocattoli non adatti all'età del bambino. Nel libro spiego come cercare di evitare questa tragedia, evitando di lasciare cibo non adatto al bambino, per esempio chicchi d'uva nel bambino piccolo, si tagliano pezzettini e si evita di lasciarli in giro. E spiegando la manovra anti-soffocamento, demando anche dei link con dei filmati e spiego le manovre con dei poster, anche se il consiglio che do a tutti, un conto è leggere, un conto è vedere, un conto è fare. Quindi invito tutti i genitori e insegnanti, gli addetti in mensa, a imparare la manovra anti-soffocamento che può essere utile per tutta l'età della vita, perché il soffocamento è più frequente nei bambini nei primi anni di vita, ma diventa frequente anche dopo una certa età. Dai 65 anni in poi aumenta il rischio, oltre che nella persona disabile, che per incoordinazione motoria è più soggetto alla possibilità di un soffocamento.